Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video, sono Mauro Caimi, sono contento di fare questa serie per spiegarvi alcune caratteristiche molto importanti. Oggi andiamo a fare short selling in maniera diretta sul grafico, non mi dilungherò in questo momento, ma ho necessità di dirvi una cosa sola. Intanto, nel mio video precedente della serie, ragazzi, che magari vi lascio sopra la mia testa, mi avete fatto notare che il livello di rischio delle operazioni short selling non è esattamente identico a quello long. Io ho un po' generalizzato nel dirvi questo perché volevo parlarvi di questa cosa in questi video che verranno, perché, ragazzi, è un argomento estremamente tecnico, fatto di molti numeri, e quindi non ci tenevo a dirlo in un video di presentazione, perché poi in realtà nella stragrande maggioranza dei casi non avviene nessuna differenza di rischio. Però mi avete fatto notare questa cosa, quindi io vi ringrazio e soprattutto vi richiedo un'altra volta di stare attenti anche a questo video. E scrivetemi nei commenti, ragazzi, se c'è qualcosa da aggiungere, perché quando fate questo tipo di commenti per dare contenuto e dare contributi a tutti quelli che guardano il video, fate un lavoro grandissimo, immenso, e quindi non posso che ringraziarvi. Come sempre vi dico anche di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, di darmi un pollicione per i video così date anche un contributo al canale dal mio lavoro, e adesso non perdiamo tempo, spostiamoci sui grafici. Eccoci davanti alla mia piattaforma che in questo momento sto usando, ragazzi, è la piattaforma DXDB, che è il mio broker CFD, ho una serie di broker, io ragazzi, per i mercati old, per i mercati classici, tra cui Interactive Brokers, broker americano è quello più grosso di tutti, che utilizzo, diciamo, quando vado a fare operazioni un po' più importanti in termini di cash, mentre XDB, ragazzi, è un broker CFD che ha una piattaforma estremamente semplice, molto facile da usare, intuitiva, mi piace tanto, proprio perché se avete un po' poco capitale, quindi non diciamo centinaia di migliaia di euro, è ottimo perché si può iniziare, con anche poco capitale, iniziare a imparare determinate cose, tra le altre peculiarità c'è la piattaforma demo, e quindi io in questo momento sto utilizzando la piattaforma demo, davanti a voi avete il grafico di Standard & Poor's 500, del giorno in cui sto registrando questo video, ragazzi, è irrilevante, diciamo, la quotazione in questo momento, quello che è rilevante è capire le operazioni short selling. Allora, intanto questa piattaforma è una piattaforma classica, qui, ragazzi, vedete il Forex, gli indici di borsa, le commodity, le criptovalute, le stocks, eventuali ETF e quant'altro. Non mi dilungo, ragazzi, tanto non è un video di esplicazione della piattaforma, quindi vado direttamente a prendere lo Standard & Poor's 500, che nel CFD si chiama US 500. Ok, ragazzi, ci sono già due operazioni aperte, perché non vi nascondo, l'ho appena provato, ho appena provato proprio il demo del broker, che non l'avevo mai usato, insomma, fino ad ora, e l'ho provato per vedere questo tipo di operatività e spiegarvi un po' le differenze. Come si fa lo short selling? Intanto partiamo da questo, come si fa proprio tecnicamente, poi andiamo a guardare quelle che invece sono le particolarità per farvi capire quali conteggi dovete fare per non fare errori e che cosa è importante notare per il problema, appunto, del rischio. Allora, andiamo qui, ragazzi, sul indice che io ho messo in questo momento qua davanti a noi. Allora, in questo momento avete già aperte due operazioni, non ci interessano. Andiamo a guardare il nostro strumento finanziario, Standard & Poor's 500. Dobbiamo fare uno short selling, ragazzi, lo so che è banale, ma basta premere sell, stop, chiuso il discorso. Ok, in broker come CFD ve lo fanno in maniera estremamente elementare. Sui mercati criptovalute vedremo che non è così semplice, solo in alcuni casi, ma ci sono un po' dei marchigiani da effettuare, ma andiamo a fare proprio l'operazione. Dobbiamo però, vedete, qui al centro andare a indicare la quantità e qui cambierà tutto quello che dovremmo vedere. Quindi dovete stare molto attenti, ragazzi, ok? Attenti su questo punto perché è questo punto che aumenterà il nostro rischio eventuale o lo diminuirà. Allora, ragazzi, la quantità dello strumento non è legata al prezzo che vedete. Quindi se io qui inserissi uno, per intenderci, su un indice di borsa, ragazzi, che non è una stocks, perché se io vado a comprare un'azione, allora va bene, ragazzi, ma nel caso di un indice di borsa, che è un future, il prezzo che voi vedete va moltiplicato per un fattore, ragazzi. Dove troviamo questo fattore? Allora, bisogna andare, ogni broker chiaramente avrà la sua piattaforma, comunque voi dovete andare a cercare le informazioni giuste e che trovate su informazioni sul strumento. In ogni caso, ragazzi, ora vi dirò quanto vale lo standard Impulse 500 perché vale così per tutto il mondo. Allora, se io clicco qui, ragazzi, vedete, ci sono delle informazioni di base, tra cui quella più importante di tutti è il valore nominale di un lotto. Un lotto del standard Impulse 500, tradato su XDB, poi ci sono anche i lotti mini su alcuni broker. Comunque voi dovete fare questo tipo di calcolo su tutte le piattaforme, dovunque andate, per cercare di capire il valore, cioè quanto andate effettivamente ad investire senza leva. Comunque farò un video proprio solo dedicato a questo discorso della leva, ragazzi. Allora, vedete qui, livello dello strumento per 50. Quindi, se io voglio sapere quanto vale una, se io compro un lotto dello standard Impulse 500, devo fare 2700, vedete, 33 per 50 dollari, ok? Sì, avete capito bene, 136.000 dollari, ragazzi. Se io compro un lotto di questo strumento, voi state comprando o vendendo in short 136.000 dollari, ragazzi. Vedete la leva finanziaria come prende forma. Quindi bisogna fare attenzione a questa quantità quando andate a fare lo short, ragazzi, va bene? Se voi non avete sul conto 136.000 dollari, non premete meno, cioè sell con 1 su questa quantità, perché, ragazzi, altrimenti le oscillazioni dello strumento finanziario impatteranno sul vostro rendimento in maniera assurda. Quindi dovete fare il conto. Ipotizziamo che voi avete sul vostro conto 10.000 dollari o euro, più o meno, siamo lì, ragazzi. Andiamo a capire quanto dovete inserire qui per non avere leva e quindi fare esattamente l'operazione corretta di short selling senza leva, ragazzi, ok? L'operazione è assolutamente molto semplice perché bisogna calcolare il valore dell'indice, quindi, come vi ho detto, i punti 2733 per 50 e poi andate a fare la divisione del vostro capitale. Quindi voi avete 10.000 dollari, facciamo 10.000 dollari diviso 136.000 dollari. Il risultato in questo caso, proprio, ragazzi, fatelo, proprio, 10.000 diviso il valore del contratto, si dice così, 136.000 dollari uguale 0.73, più o meno. Questo significa, ragazzi, che io qui devo andare a mettere 0.07. In questo caso, qualsiasi operazione io vado a fare, sto tradando esattamente i miei soldi, senza leva, ragazzi. Proviamo, clicchiamo a un certo punto e vendiamo al ribasso, ok? Eccolo qui, ragazzi. Allora, dov'è il nostro contratto? L'ha aperto ed è questo qui giù. Facciamo così, ragazzi. Intanto mi chiudo quello sopra, così non ci disturbano. Eccoli qua, avete visto le chiusure velocissime, lampo che sono fatte in questo tipo di piattaforme. Allora, vedete, io ho aperto il mio volume 0.07, mi risulta un meno davanti. È un tipo sell, perché ho fatto un'operazione al ribasso. In questo momento io guadagnerò se il mercato scende, ragazzi. Se il mercato non scende, quindi questo non va giù, per essere chiari, deve andare giù, deve scendere. Se non succede questo, io non guadagno. Quindi in questo momento noi abbiamo aperto un'operazione sell, ragazzi. Come si fa a chiuderla? Intanto su una piattaforma trovate il tasto chiudi l'operazione, è molto semplice. Altrimenti ricomprate, fate buy, con la stessa identica quantità, va bene? Noi abbiamo investito i nostri 10.000 dollari in questo modo, ragazzi, senza leva finanziaria. Però il broker, in questo caso, vi dà la possibilità di avere ancora altri soldi, perché vi dice non c'è bisogno in pratica di tutti questi soldi per avere questa posizione, io ti lascio la tua quantità monetaria libera. e uso soltanto un livello che si chiama margine. Andiamolo a vedere. Allora, se cliccate qui, vedete, ragazzi, vi indica che il margine utilizzato da questa operazione sono solo 438 dollari. Va bene? 438 dollari, ma noi sappiamo che ne abbiamo investiti, dovrei farvi la domanda, 10.000, ragazzi. 10.000 dollari abbiamo investito, ma il broker ci prenderà solo 438 dollari. Quindi, se non state attenti, ragazzi, voi andate a investire tanto perché vi trovate sul conto ancora disponibilità per poter fare le vostre operazioni. Questo è il problema della leva finanziaria. Cioè, se voi andate a usare una leva molto altra, quindi io qui, ragazzi, invece di mettere 0.07, mettevo un contratto, avevo investito a leva. Allora, questo tipo di oscillazione, in questo caso, la vedete in maniera molto, molto grossa rispetto al vostro portafoglio. In quel caso, arriva il rischio dello short selling, cioè, se voi avete investito molto di più di quello che avete disponibile sul conto, lo short selling, anche con piccoli movimenti, vi prosciuga totalmente il conto, ragazzi, perché state investendo a leva. Comunque, su questo facciamo un altro video perché farlo oggi è impensabile, ragazzi. Oggi vi ho fatto vedere come si fa lo short selling, una fesseria, una banalità, si va a cliccare qui e in questo caso andremo a fare il gain. Profitto netto sono i nostri euro, in questo caso, che sto guadagnando perdendo dall'operazione. Il profit and loss percentuale, in questo caso, ragazzi, è calcolato sul margine, non sul vostro investimento. Quindi è falso questo dato, non lo dovete considerare, voi dovete considerare solo questo. Noi sappiamo che abbiamo investito 10.000 dollari, vi ho fatto vedere anche la formula. Se qualcuno ha dubbi può scrivermi via mail. Stiamo perdendo lo 0,1%, quindi, come vedete, qui è un problema solo di margine. Short selling, operazione facilissima. Andiamole anche a chiudere, andiamo a usare questo qui sopra. E andiamo, chiudi tutti, ok, stop, fatto ragazzi, it's very easy. Vi ho accennato a quello che è il rischio dell'operazione short selling, che vi avevo leggermente tralasciato la scorsa settimana, proprio perché è estremamente complicato. Se fate i calcoli, come vi ho fatto vedere, e utilizzate solo il vostro dinero, allora problemi, ragazzi, non ce ne saranno. Ricordatevi sempre, però, che c'è una variabile da considerare per lo short selling, e qual è? Se io faccio l'acquisto di un titolo, che può essere, non so, ragazzi, Apple, con i suoi prodotti, compro un'azione Apple, posso perdere tutto il mio investimento, quindi totale, tutto l'investimento, nel momento in cui Apple arriva a zero. Se voi andate, ragazzi, in short su Apple, e Apple raddoppia di capitale, voi perdete tutto il vostro investimento, anche con lo short selling. Se però, ragazzi, fate attenzione su questo, avete più soldi sul conto, e non chiudete l'operazione, a quel punto il broker continuerà a farvi perdere, perché si prenderà anche tutti i soldi presenti sul margine. Quindi dovete fare attenzione alla leva quando utilizzate lo short selling. Ragione per cui, nel prossimo video della serie, ragazzi, parleremo solo della leva finanziaria e a cosa fare attenzione per risolvere questo problema. Per il resto, l'avete visto, è un'operazione estremamente banale. Non è diversa dall'operazione long, è assolutamente identica. Di nuovo sul grafico, nel prossimo video. Ragazzi, lasciatemi un mi piace, iscrivetevi al canale. Se ancora non l'avete fatto, noi ci vediamo nel prossimo video della serie. Ciao!